Ok, allora siamo nel paracaccio del viaggio Malumbo e come vedete alle mie spalle c'è la pista, l'attività logicamente in prevalenza è il partenaggio libero, però poi si fa anche allenamenti di hockey e il partenaggio artistico e basket su ghiaccio che è una novità. Come funziona la pista? C'è un circuito a pettine, dentro c'è un antigelo che viene raffreddato da un fiorifero fuori, quindi il procedimento è molto semplice, mentre è complesso il funzionamento del fiorifero. Io sono Antonio Limonci, mi occupo di partenaggio in ghiaccio da circa 50 anni, sono 59, diciamo, 55 passati sui pattini, ho giocato a hockey a vari livelli e sono allenatore di ben otto discipline sportive su ghiaccio, tra cui anche quattro con i pattini a rotelle. Facciamo tutto un po'. Questa è un'ottima palestra per quanto riguarda gli allenamenti di tutte le discipline, quindi partendo dalla danza, partendo da giartisti, hockey e così via.